Io alle primarie ho votato Bersani, pensavo e penso tuttora che fosse una persona capace di governare il paese coniugando equità e rilancio, oltre che sobrietà. Chiaramente se Bersani non riuscirà a comporre un governo e avere la fiducia del Parlamento in questa situazione io credo che si debba fare da parte e a quel punto entrerà in campo con le primarie, probabilmente Renzi. E Barca le piace? Barca mi piace molto, lo stimo moltissimo, lo conosco abbastanza bene. Devo dire la verità che Barca è una persona che secondo me avrà la possibilità, se vorrà, se continuano le sue cose, di ricreare un partito che parli con le persone, con la gente. Ma non sto parlando solo del PD. Anche Renzi parla con le persone. Anche Renzi parla con le persone. Stavo dicendo, Renzi invece ha più capacità di avere un ruolo nazionale non all'interno di un partito, cioè come segretario di partito, chiaramente all'interno del PD, io spero che mantenga gli impegni di rimanere all'interno del PD, di modificare veramente il rapporto dell'intero centrosinistra con il paese. Quindi due ruoli diversi. Quindi Barca segretario e Renzi leader del centrosinistra. Sì, non so però se loro si sono mai parlati, quindi non vorrei... Ah, bello, no, perché io mi immagino già le primarie, la sfida tra Barca e Renzi potrebbe anche andare così, no? No, non credo. Non credo, per quello che conosco, Barca non è persona che faccia una competizione da primarie per la Presidente del Consiglio. Lui è molto più interessato e credo che è anche più adatto per la sua cultura politica.